Bene, buongiorno a tutti. Penso che non ci sia introduzione migliore di quella che ha fatto Giovanni questa mattina sulla riforma, perché è anche una bella introduzione a questo messaggio, al messaggio che Giuda ci lascia in questa lettera di combattere strenuamente per la fede che ci è stata trasmessa. Negli anni 60 del 1900 un ragazzo adolescente si fece strada nel movimento cristiano, nel movimento evangelico, soprattutto in ambito carismatico, il nome di questo ragazzo era Dan Daniele Barker, pensate a soli 15 anni iniziò a collaborare con una delle più famose evangeliste di quegli anni, degli anni 50-60, il suo nome era Caterina Kuhlman, che organizzava questi incontri evangelistici dove migliaia di persone andavano per ascoltare il Vangelo e dove lei sosteneva di effettuare guarigioni a tantissime persone, migliaia e migliaia di persone accorrevano a questi incontri e Dan questo ragazzo 15 anni collaborava con lei già dai primi tempi, divenne anche lui ben presso un evangelista, dall'essere una promessa divenne una certezza nel movimento evangelico statunitense, viaggiò per diversi anni, divenne missionario a tempo pieno, fu un missionario per due anni in Messico a tempo pieno, aveva anche delle doti musicali molto importanti, infatti divenne accompagnatore, arrangiatore, produttore per diverse personalità cristiane famose negli Stati Uniti in quegli anni, anni 60, anni 70, realizzò negli anni 70 diversi musical cristiani, musical per bambini che ancora oggi sono molto conosciuti e fu anche ospite, spesso ospite di una trasmissione di uno show televisivo in America chiamato Gloria a Dio, questo negli anni 70, fino al 1984 1984 a gennaio Dan Barker annunciò di essere diventato ateo, nel 1992 pubblicò un libro intitolato Perdere fede nella fede, da allora con sua moglie ha fondato un'associazione chiamata Libertà dalla religione, ha sostenuto più di 125 dibattiti nelle università americane contro la fede, da apostolo della fede, ad apostata della fede. Un altro uomo, Thomas Paine Thomas Paine, siamo nel 1700, cresciuto da una madre anglicana e da un padre di religione quacchera i quaccheri erano un movimento cristiano di origine, che aveva origini calviniste e puritane cresce, diventa adulto, rigetta la fede cristiana, inizia a scrivere dei trattati che lo rendono famoso in tutto il mondo, tra questi il più importante chiamato l'età della ragione, in cui rigetta il cristianesimo, rigetta la Bibbia come parola di Dio, attacca fortemente la Bibbia in questo testo e si dichiara deista se non, diciamo, apostata dalla fede che gli era stata insegnata. Questi due esempi ve li ho dati per farvi capire che nelle chiese ci sono sempre stati e ci sono apostati. Giuda infatti scrisse questa lettera proprio perché queste persone, i membri di questa chiesa stavano assistendo ad episodi di apostasia, i membri di questa chiesa stavano vedendo i loro amici, i loro parenti che una volta confessavano di essere cristiani, confessavano la loro fede in Cristo, in quel momento invece la rigettavano, abbandonavano Cristo. Allora chiediamoci cos'è l'apostasia. Cos'è? Innanzitutto voglio dirvi non è l'apostasia dell'Islam che perseguita gli apostati con la pena di morte. Apostasia nella Bibbia nel Nuovo Testamento è apo che è una preposizione da o lontano da e istemi che significa posizione e quindi è un allontanamento da una posizione precedentemente assunta o confessata, un allontanamento. La prima volta che troviamo apostasia nel Nuovo Testamento è in Luca capitolo 8 versetto 13. Voglio leggere brevemente questo versetto perché è la prima volta che la troviamo nei Vangeli ed è proprio Gesù ad usarla. Nel versetto 13 la sta spiegando, sta spiegando il significato di questo seme che cade nei diversi terreni e versetto 13 dice quelli sulla roccia sono coloro i quali quando ascoltano la parola, attenzione, la ricevono, la ricevono con gioia ma costoro non hanno radice, credono per un certo tempo ma quando viene la prova, ecco il termine, si tirano indietro, ecco il termine apostasia, cadono. Quando arriva la prova, quando arriva la difficoltà queste persone perdono la fede che avevano una volta confessato. E notate il verbo che usa Gesù qui, ricevono. Qui nel versetto 13 ricevono è decomai in greco che è una ricezione, un ricevere qualcosa in modo superficiale e blando. Però quando Gesù in questa stessa parabola parla di coloro che ricevono la parola e portano frutto, non usa decomai ma usa paradecomai che è una ricezione molto più profonda, molto più attenta. c'è decomai, superficiale, e c'è paradecomai, ricevere il seme, ricevere la parola in un modo molto più profondo. Allora da qui comprendiamo chi sono gli apostati. Non sono persone che sono indifferenti al Vangelo, non sono persone ignoranti, sono persone che hanno compreso e hanno creduto per un certo tempo. Sono persone che hanno ricevuto soltanto una ricezione superficiale del seme. E qui voglio darvi la definizione. L'apostata quindi è colui che dopo aver ricevuto il Vangelo, dopo averlo ricevuto intellettualmente, dopo aver anche dato al Vangelo un assenso intellettuale, lo rigetta, lo rinnega e non solo lo rinnega ma si scaglia contro di esso in un ultimo atto di ribellione contro Dio. Questo è l'apostata, lo ripeto, colui che dopo aver preso atto del Vangelo e per un tempo ci ha anche creduto mentalmente, lo rigetta e non solo lo rigetta ma si scaglia contro di esso in un ultimo atto di ribellione contro Dio. Adesso la Chiesa è sempre stata preoccupata per gli attacchi esterni. Nel corso dei secoli la Chiesa è sempre stata preoccupata delle dittature o dei governi o della persecuzione ma in realtà gli attacchi più velenosi per la Chiesa sono venuti dall'interno, sono venuti da dentro il suo stesso tessuto. L'apostata infatti è un assiduo membro di Chiesa a volte, l'apostata è un euforico collaboratore in Chiesa, l'apostata è il nostro amico che finisce il piano di lettura della Bibbia in un anno, l'apostata è qualcuno che sembra essere un credente come tutti gli altri ma un giorno decide di abbandonare le insegne di Cristo per identificarsi nelle insegne del nemico, decide di svestirsi degli abiti di soldato di Cristo per vestire quelli di demone, di messaggero di Satana, decide di tradire il suo salvatore e di arruolarsi per il suo nemico. John MacArthur ha definito l'apostata in questi termini, l'apostata dice lui è qualcuno che ha ricevuto la luce ma non la vita, ha ricevuto il seme ma non il frutto, ha ricevuto la parola scritta di Dio ma non quella vivente, ha ricevuto la verità ma non ha amore per la verità. Questo è l'apostata e prima di andare avanti voglio proprio parlare a te questa mattina, non conoscendovi tutti in maniera come fa il Signore, in maniera perfetta, se stai pensando di soccombere alla forza dell'apostasia, se stai pensando di disertare, se stai pensando di abbandonare Cristo, non farlo. Geremia il profeta dice guarda dunque che cattiva e amara cosa è abbandonare il Signore. Ma se sei qui questa mattina, anche se stai pensando di disertare, ricorda questo, Dio questa mattina ti ha portato qui ancora una volta per farti ascoltare il Vangelo, per tenderti la sua mano, fatti abbracciare dalla tenerezza di Cristo, fatti accogliere dalla sua tenerezza. Cristo è un rifugio per i peccatori, anche per coloro che pensano di disertarlo. E così, avendo compreso cos'è l'apostasia, avendo introdotto questa lettera, vogliamo leggere i primi quattro versetti e questi saranno quelli che vedremo insieme per il nostro tempo. Giuda, la lettera di Giuda, dal versetto 1 al versetto 4. Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. Misericordia, pace e amore vi siano moltiplicati. Carissimi, avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza, mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere strenuamente per la fede che è stata trasmessa ai Santi una volta per sempre, perché si sono infiltrati fra di voi certi uomini per i quali già da tempo è scritta questa condanna, empi, che volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio e negano, negano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. Qualche cenno introduttivo brevemente su questa lettera fu scritta da Giuda, Giuda il fratellastro del Signore Gesù, colui che era cresciuto con Gesù durante la sua infanzia e giovinezza. Sappiamo dalla Bibbia, Giovanni 7,6, che neppure i suoi fratelli avevano creduto in lui all'inizio, ma sappiamo anche in Atti capitolo 1 che i suoi fratelli dopo la sua resurrezione avevano creduto in Gesù perché li ritroviamo tutti insieme, Atti capitolo 1, insieme a Maria, insieme agli apostoli stanno adorando Gesù tutti insieme e quindi da questo comprendiamo che anche Giuda dopo un po' aveva creduto in Gesù. Giuda si identifica come il fratello anche di Giacomo, anche lui era il fratellastro di Gesù, Giacomo, questo era uno dei responsabili della chiesa di Gerusalemme e sappiamo che erano loro perché? Perché ci sono soltanto due Giuda nel Nuovo Testamento oltre a Giuda Iscariota, c'era Giuda l'apostolo che Gesù aveva scelto tra i dodici e poi c'era Giuda il fratellastro di Gesù. Ecco in questa lettera questo Giuda che scrive non è che prende le distanze ma si distingue dagli apostoli. Se vedete il versetto 17 Giuda dice ma voi carissimi ricordatevi di ciò che gli apostoli del Signore hanno detto, si sta distinguendo dagli apostoli e quindi capiamo che questo Giuda non è Giuda l'apostolo ma è Giuda il fratellastro di Gesù, fratellastro di Gesù, fratello di Giacomo. Scrisse questa lettera e questa lettera ha una peculiarità che la rende diversa da tutte le altre del Nuovo Testamento e la peculiarità è questa, è l'unica lettera del Nuovo Testamento dove l'autore aveva pensato di scrivere una lettera ma quando si siede lo Spirito Santo lo guida a scrivere una lettera completamente diversa da quella che aveva pensato. L'abbiamo letto nel versetto 3 dice Giuda avendo un gran desiderio di scrivervi della nostra comune salvezza mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi. Sta dicendo avevo pensato di scrivervi una lettera che celebrava la grandezza della salvezza, la bellezza della salvezza, che celebrava la grandezza del Signore Gesù morto per noi. Ma quando mi sono seduto sono stato costretto a scrivervi una lettera diversa. Una lettera dice che vi esorta a combattere estrenuamente. I problemi che c'erano in questa chiesa costrinsero Giuda a scrivere una lettera che esortava questi credenti a combattere, a combattere per la fede. Ed infatti questo è il primo aspetto di cui voglio parlarvi, versetti 3 e 4. La battaglia contro l'apostasia. Sta chiamando i credenti a combattere, a esortarvi a, dice, combattere estrenuamente. È una battaglia, una battaglia invisibile che avviene nella Chiesa ma è pur sempre una battaglia. È una battaglia contro, attenzione, non contro gli apostati come fa l'Islam, è una battaglia contro l'apostasia, cioè contro la tentazione che potrebbe sorgere nel tuo cuore di abbandonare Cristo, di disertare. Devi combattere questa battaglia dentro di te. Devi essere pronto a ingaggiare questa battaglia contro questa tentazione. Devi essere vigile, attento a combattere contro le falsità del nemico. Questa battaglia ha alcune caratteristiche in questi versetti 3 e 4, di cui voglio parlarvi brevemente. Sempre dal versetto 3, questa battaglia è senza fine, perché il verbo che viene usato è un infinito presente. Trasmette l'idea di dover combattere continuamente fino alla fine. Non è una battaglia nella quale puoi riposarti, non è una battaglia nella quale ci sono dei momenti di tregua, è una battaglia che deve essere combattuta continuamente. Numero 2, è una battaglia agonizzante. Combattere strenuamente qui è agonizzo mai, agonizzare, combattere fino allo sfinimento, combattere fino alla fine delle tue forze, combattere contro questa tentazione. È una battaglia inoltre che non si vince da soli. È una battaglia che si vince soltanto per mezzo di un'aggressione, un attacco organizzato contro le fortezze del nemico. Deve esserci un'offensiva organizzata, un'offensiva attesa a non cedere neanche un metro al nemico. E quando vediamo un'anima nella chiesa che è tentata dall'apostasia, è tentata dal desiderio di abbandonare Cristo, disertare Cristo, ci deve essere un'organizzazione di chiesa per tentare di strappare quest'anima che il nemico sta portando via. È una battaglia che non si vince da soli, è una battaglia che deve essere vinta con un'offensiva ben organizzata, che inizia nella mente facendo crollare le roccaforti del nemico e che deve essere combattuta anche con il cuore, amando Cristo e le persone che ci mette accanto. Numero quattro è una battaglia a difesa di un avamposto, a difesa di una postazione, una postazione fondamentale. Qual è questa postazione? Guardate cosa dice Giuda? Mi sono trovato costretto a farlo per esortarvi a combattere estremamente per la fede. La fede è questa postazione. La fede che è stata trasmessa ai santi una volta per sempre. La fede è la postazione di difesa. La fede è quel deposito che dobbiamo custodire. E che cos'è questa fede qui? Non è la fede personale che è nel cuore in Gesù. La fede di cui sta parlando Giuda qui è quella fede oggettiva. È il credo alla base della nostra fede. Fede qui è sinonimo di verità. Perché? Perché dice è stata tramandata, è stata data ai santi una volta per sempre. La fede qui è la parola di Dio. È la verità che ci è stata data. La verità o fede è questa postazione, questo avamposto che dobbiamo difendere. Non dobbiamo permettere al nemico di aprire questo deposito, di aprire questo tesoro e di mettere in questo tesoro le sue bugie. Paolo disse a Timotio, custodisci il buon deposito, custodiscilo. E quando Paolo disse questo, si stava riferendo alle sane parole, dice Paolo a Timotio, che io ti ho dato. Custodisci la parola, custodisci la verità, custodisci questo messaggio che abbiamo ricevuto una volta per sempre. Questo messaggio che è della Bibbia, è il messaggio del Vangelo, il messaggio di Gesù Cristo, è stato ispirato da Dio, è stato scritto dai profeti e dagli apostoli, è stato preservato da Dio nel corso dei secoli affinché noi oggi lo potessimo leggere, è stato chiuso, è stato sigillato da Dio. Il libro dell'Apocalisse è l'ultimo libro, Dio ha sigillato il canone, lo ha chiuso, non c'è nessun'altra rivelazione che deve essere aggiunta. Anzi Dio dice se qualcuno aggiunge parole a questo libro, qualcosa a questo libro, Dio aggiungerà sofferenze e i mali descritti in questo libro alla sua persona. Questo messaggio Dio lo ha preservato, lo ha protetto e lo ha fatto arrivare fino a noi. Condividevo ieri per qualche minuto con gli adolescenti che il testo della scrittura, la Bibbia, è chiaramente un testo preservato divinamente da Dio. E come lo facciamo a sapere? Pensate, prima della scoperta dei rotoli del mar morto, un rotolo che avevamo, il rotolo di Isaia, il primo rotolo, il rotolo più antico, ci veniva dal 900 d.C., quindi quasi nel medioevo, basso medioevo, 900 d.C. Quando sono stati scoperti i rotoli del mar morto abbiamo scoperto che c'era un altro rotolo di Isaia in queste grotte e che era datato 100-150 prima di Cristo. Quindi ci sono mille anni di differenza tra il rotolo che avevamo prima del 1947 e il rotolo dopo il 1947. E quando gli studiosi li hanno messi a confronto hanno trovato che il 95% di questi due testi era assolutamente identico, il 5% era cambiato semplicemente perché c'erano errori di ortografia, errori di distrazione o questi scrivi che scrivevano non nelle comodità che noi oggi abbiamo, potevano commettere degli errori, ma questi errori non andavano assolutamente a cambiare il significato del testo. Pensate, le 166 parole di Isaia 53, 166 parole hanno trovato soltanto 15 o 17 lettere differenti dopo mille anni e queste lettere erano assolutamente ininfluenti per il significato del testo. Dio ha preservato questa verità e adesso a noi sta il compito di difendere, preservare e credere in questa verità. Inoltre, dove si combatte questa battaglia? Abbiamo detto che cos'è questa battaglia? Abbiamo detto l'avamposto che dobbiamo difendere, ma dov'è che si combatte? Guardate il versetto 4, Giuda dice si sono infiltrati fra di voi nella Chiesa, il posto dove questa battaglia si combatte è nella Chiesa, i più grandi pericoli che sono giunti, i più grandi attacchi al cristianesimo sono giunti dalla Chiesa, dall'interno della Chiesa. Non so se lo sapete, ma l'Islam non nasce come una religione nuova, non nasce come l'intento di creare una nuova religione, Allah. L'Islam nasce come eresia interna al cristianesimo, dopo 600 anni dopo Cristo. Infatti abbiamo una testimonianza storica di Giovanni da Damasco, che era uno dei padri della Chiesa. Giovanni da Damasco ha vissuto una quarantina d'anni dopo Maometto e Giovanni da Damasco diceva che Maometto era stato influenzato da un monaco ariano. Gli ariani erano coloro che i cristiani, tra virgolette, che non credevano nella deità di Gesù. Influenzato da questo monaco, da lì poi è iniziata la sua predicazione, la stesura del Corano. Un'eresia interna al cristianesimo. Qualsiasi attacco pericoloso è velenoso è giunto dall'interno. Sono nella Chiesa. Guardate come li definisce Paolo. Se aprite in Seconda Corinzi, capitolo 11, Paolo usa più o meno la stessa illustrazione. Seconda Corinzi 11, versetto 13, Paolo dice Quei tali sono falsi apostoli, questi erano nella Chiesa, operai fraudolenti, attenzione, che si travestono da apostoli di Cristo. Si travestono. Meta schematizzo. Meta cambiare, schematizzo lo schema. Cambiare schema. E Elias sa cosa significa cambiare schema? Significa cambiare l'apparenza, ma se i tuoi interpreti non funzionano, la squadra gioca male. Ecco, queste persone cambiano lo schema, cambiano la loro apparenza. Si mettono una maschera per sembrare veri apostoli, ma in realtà sono messaggeri di Satana, dice Paolo. Sono messaggeri del nemico. Si travestono da messaggeri, da angeli di luce, ma sono messaggeri del nemico. Nel nome di Cristo conducono le persone lontano da Cristo. Si chiamano vicari di Cristo, ma predicano un Vangelo distorto che conduce le persone lontano da Cristo. E li descrive ancora Giuda. dice che questi uomini hanno, volgono in dissolutezza la grazia del nostro Dio. Uomini empi che volgono in dissolutezza, cioè usano la grazia come una scusa per continuare a pecare. Conoscono, parlano di questa grazia, ma questa grazia per loro è soltanto un motivo per continuare a fare quello che hanno sempre fatto. Trasformano in dissolutezza questa grazia. E voglio dirlo anche a te questa mattina. Se pensi che la grazia sia un modo per continuare a peccare, non hai conosciuto la vera grazia. E voglio essere chiaro, non c'è posto nel quale la grazia di Dio non possa raggiungerci. Non c'è profondità dalla quale la grazia di Cristo non possa riscattarci. Ma se pensi che la grazia sia solo un modo per vivere la tua vita, non hai conosciuto la vera grazia, non hai conosciuto la grazia, hai conosciuto la grazia senza ravvedimento, la grazia senza il costo della croce, la grazia senza Gesù Cristo. E questi uomini infine, dice, negano il nostro unico padrone. Ci sono diversi tipi di apostati, ci sono apostati che negano l'esistenza di Dio, apostati che negano la deità di Cristo. Qualche tempo fa uno dei professori del Master College, vent'anni professore, vent'anni ha insegnato fedelmente le scritture, all'improvviso dice non credo nella deità di Cristo e non credo nella Trinità. E naturalmente ha abbandonato il suo lavoro come insegnante, ma di colpo escono fuori. E poi ci sono apostati che non credono nel ritorno di Cristo. Ma in questo caso, dice Giuda, questi apostati possono anche credere in tutte le dottrine nelle quali noi crediamo, ma dice negano il nostro Signore Gesù Cristo, negano Gesù come padrone, negano la Signoria di Cristo. Significa, anche se credono nelle dottrine in cui crediamo noi, non sono disposti ad accettare la Signoria di Cristo nelle loro vite, non sono disposti a scendere dal trono della loro vita per far sedere Cristo come Signore e Salvatore. Lo negano. Adesso, dopo aver capito il problema che c'era in questa Chiesa, dopo aver capito la battaglia a cui Giuda sta chiamando questi credenti a combattere, immaginate per qualche istante di essere uno di questi credenti. Iniziano a vedere persone a loro vicine abbandonare Cristo, disertare Cristo, iniziano a vedere i loro parenti, non frequentare più la Chiesa, abbandonare la Chiesa, inizia a esserci paura tra di loro, iniziano a chiedersi chi sarà il prossimo? Chi è il prossimo lupo travestito da pecora? Forse sarò io? Iniziarono forse a fare quello che gli apostoli fecero nell'ultima scena. Il Signore dice, uno di voi mi tradisce, mi tradirà? E gli apostoli conoscevano così tanto i loro peccati che iniziarono a dire, forse sono io il traditore, forse sono io l'apostata. E così anche questi credenti iniziarono ad essere paurosi, timorosi, iniziarono a pensare la mia fede un giorno crollerà come quella di queste persone, collasserà come quella di questi apostati, anche io un giorno perderò questa salvezza che ho ricevuto. Iniziava a esserci paura, iniziava a esserci terrore. E questo è il motivo per cui Giuda inizia questa lettera al versetto 1 con tre parole. Rileggiamo il versetto 1 e qui voglio parlarvi della protezione contro l'apostasia. Io ho parlato della battaglia contro, voglio parlarvi adesso della protezione. Guardate i tre termini, dice Giuda, inizia la sua lettera così, Giuda, servo di Gesù Cristo, fratello di Giacomo, hai. Numero uno, chiamati. Numero due, che sono amati in Dio Padre e numero tre, custoditi da Gesù Cristo. Capite l'importanza di iniziare questa lettera in questo modo nel contesto nel quale queste persone si trovavano? C'era terrore, c'era paura, c'era il timore di perdere la fede, il timore di arrivare un giorno ad essere attaccati dal nemico a tal punto da non poter resistere? E Giuda dice, se siete veri credenti, siete chiamati, siete amati e siete protetti. Per dirlo in una frase, siamo chiamati da Dio, se siamo realmente chiamati, siamo anche amati da Dio Padre, siamo custoditi dalla seconda persona della Trinità Gesù Cristo e se a questo aggiungiamo che lo Spirito Santo è il suggello della nostra salvezza, tutti e tre le persone della Trinità sono attivamente coinvolte nell'opera di protezione che ci provvede contro l'apostasia. La Trinità Padre Figlio e Spirito sono attivamente coinvolte per proteggerci dagli attacchi del nemico che noi non potremmo resistere. Padre, Figlio e Spirito Santo. Adesso vediamo brevemente questi termini per il tempo che ci rimane. Numero uno dice chiamati, chiamati. Ci sono due tipi di chiamate, c'è una chiamata generale, la chiamata del Vangelo che quasi tutti gli uomini ricevono, la chiamata del seme che viene sparso, ma c'è la chiamata interna e la chiamata di cui Giuda sta parlando qui è la chiamata interna, la chiamata efficace, la chiamata effettiva, quella che Dio produce nel cuore di una persona e quando Dio fa quella chiamata, come l'ha fatta Cristo sulla terra, l'uomo non può che seguire Cristo. Come è successo ai discepoli, Gesù vede Giacomo, Andrea, Pietro che stanno aggiustando le reti e dice seguitemi e lasciarono tutto per seguirlo. Gesù vide Levi seduto al banco delle imposte e gli dice una parola, un verbo, seguimi e Levi abbandona tutta la riscossione delle tasse, i soldi che ha là sopra, lascia tutto per seguire qui Cristo. Questa è la chiamata e questa è la chiamata anche che Dio sta facendo a te questa mattina. Se sei qui questa mattina o sei stato chiamato oppure Dio ti sta chiamando oggi. E come ti sta chiamando? Ti chiama in questo modo, ci sono tre passi. Numero uno c'è l'opera dello Spirito Santo, Giovanni 16,8. Lo Spirito Santo convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Se Dio ti sta chiamando questa mattina, lo Spirito Santo ti sta parlando, lo Spirito Santo ti sta rendendo colpevole davanti alla tua stessa coscienza, ti senti colpevole, ti rendi conto della tua colpevolezza che non sei innocente. E questa è l'opera della terza persona della Trinità. C'è un secondo passo per essere chiamati ed è quello che Gesù dice in Giovanni 6,44 e altre volte. Dice nessuno può venire a me se non lo attira il Padre. E dice un altro testo anche che è il Padre che attira i discepoli a Cristo. Il secondo passo che Dio fa quando chiama qualcuno è di attirare. Dio Padre attira le persone a Cristo. E così dopo che hai compreso di essere peccatore, dopo che ti rendi conto del tuo peccato, ti rendi conto che il Padre ti sta avvicinando a Gesù. Ti rendi conto che Gesù è l'unica soluzione al tuo problema. Il Padre ti attira al figlio. E Gesù dice colui che viene a me e io non lo caccerò fuori. E venite a me. Gesù stesso invita queste persone ad andare a lui. Venite a me voi tutti che siete stanchi e travagliati e io vi darò riposo. Quindi il Padre, o meglio lo Spirito Santo ci convince, il Padre ci attrae al figlio, noi gridiamo al figlio, gridiamo a Cristo di salvarci. Cristo non ci caccia fuori, non ci manda via, ci accoglie e per mezzo della sua opera, della sua morte e risurrezione, veniamo giustificati, veniamo salvati. Questa è la chiamata. Questa è la chiamata che Dio compie, che Dio sta compiendo anche questa mattina. Numero due dice siamo amati, amati in Dio Padre, amati in Dio Padre. Il verbo agapa o agape, lo sapete? È l'amore del sacrificio, l'amore della decisione. Dio ha deciso di sacrificarsi, Dio ci ha amato perché ha deciso di amarci, ma attenzione agape non è l'unico amore col quale Dio ci ama. In Giovanni 16, 27 Gesù dice il Padre stesso vi ama e lì non usa agape, lì usa fileo, lì usa l'amore dell'emozione, l'amore dell'affetto. Dio non ci ama soltanto perché ha deciso di amarci, Dio ci ama perché ha emozioni verso di noi. Dio prova emozioni, Dio prova affetto verso di noi e per questo ti sta chiamando, perché ti ama con il suo essere che è fatto anche di emozioni. E quindi Dio ci ama e la domanda successiva che ci facciamo è quanto è grande questo amore, quanto è possibile per Dio amarci? La risposta è Giovanni 17. In Giovanni 17, se guardiamo per un momento, Gesù sta pregando il Padre e nella sua preghiera descrive prima di tutto l'amore che il Padre aveva verso di Lui e poi l'amore che il Padre aveva verso i discepoli. Dice Gesù, Giovanni 17, versetto 24, Padre io voglio che dove sono io siano con me anche quelli che tu mi hai dati affinché vedano la mia gloria che tu mi hai data poiché mi hai amato prima della fondazione del mondo. Il Padre ama il Figlio, Gesù Cristo, da eternità in eternità ed è un amore perfetto perché è un amore eterno, non è mai cambiato. Ma guardate il versetto 23. Io in loro, tu in me, affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Gesù sta dicendo che il Padre ci ama con lo stesso amore con cui il Padre ha amato il Figlio, cioè un amore eterno. Siamo amati prima della fondazione della Terra. Siamo amati con un amore eterno. Questo è l'amore quantitativamente e qualitativamente che Dio ha per noi. Un amore eterno. Lo stesso suo amore che c'è tra le tre persone della Trinità viene riversato e sparso nei nostri cuori. È l'ultimo termine. Dice Giuda siamo anche custoditi. E forse questo è il verbo più importante. In questo contesto forse è il verbo più importante. Pensiamo a quanto fosse importante per questi credenti sapere in quel contesto che erano custoditi, protetti. Come siamo custoditi da Cristo? Siamo custoditi dalla forza onnipotente di Cristo. Giovanni 10, 28 Gesù dice, a riguardo delle sue pecole, do loro la vita eterna, non periranno mai e nessuno le rapirà dalla mia mano. Vuol dire che noi siamo nella mano di Cristo, questa mano è stretta, ci tiene stretti nella sua mano e non c'è forza che può aprire questa mano per rapirci. Non c'è forza nell'universo. La forza più grande dell'universo è Dio che ha creato ogni cosa. Non c'è altra forza nell'universo più grande di Dio. Potete mettere insieme tutta la forza di gravità e tutte le forze che ci sono, che tengono in equilibrio i pianeti nell'universo. Mettete insieme queste forze e questa forza non potrà aprire la mano di Cristo per rapirci. Non può farlo, perché Cristo ha creato queste cose ed è per questo onnipotente. Nessuno può rapirci della sua mano. La stessa cosa dice Pietro. Prima Pietro 1,5. Pietro lo spiega con parole, diciamo, più chiare, nel senso che sono più semplici. Dice che dalla potenza di Dio, prima Pietro 1,5, dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata. Siamo custoditi dalla potenza di Dio. La nostra fede è custodita, è protetta, è in mano a Cristo onnipotente. E così siamo custoditi dall'onnipotenza di Cristo. Siamo anche custoditi per tutto il tempo della nostra vita. Gesù poteva dire al Padre che Lui aveva conservato, aveva protetto tutti i Suoi discepoli ad eccezione di uno, il figlio di perdizione, l'apostata. Coloro che hanno una vera fede in Cristo, che non apostateranno dalla fede, sono coloro che vengono protetti durante tutta la vita da Cristo. Siamo anche protetti dall'intercessione di Cristo. Come ci protegge Cristo? Con la sua intercessione. Giovanni 7,12. Padre Santo conservali nel tuo nome. E non stava pregando soltanto per gli undici discepoli, ma dice per tutti quelli che credono in me per mezzo della loro parola, per mezzo della loro predicazione, quindi anche per noi. Gesù Cristo in Giovanni 17, nel giardino del Getsemani, ha pregato per noi, ha pregato il Padre di conservarci, di proteggerci. Ha detto non prego che li tolga dal mondo, ma che tu li protegga dal maligno. Siamo custoditi, infine, da Cristo, dalla sua onnipotenza anche in mezzo agli attacchi più feroci del nemico. Perché dico questo? Poco prima che Pietro rinnegò Cristo, Gesù disse a Pietro, Luca 22,31, Simone, Simone, e ogni volta che lo chiama Simone per ricordargli la sua vecchia natura, chi era prima, gli dice Simone, Simone, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglie il grano. Sta dicendo Simone, Satana sta per venire con un attacco senza precedenti. E la brutta notizia, Simone, è che io non ti proteggerò da quell'attacco. L'attacco verrà. Satana ha chiesto di vagliarvi e ci proverà, vi attaccherà. Ma dice, io ho pregato per te affinché la tua fede non venga meno. Pietro, ho una brutta notizia da darti, Satana ti attaccherà. Ho un'altra brutta notizia da darti, cadrai. Ma la terza è una bella notizia. nonostante cadrai, la tua fede non potrà essere distrutta perché io ho pregato che la tua fede non venisse distrutta. E questo sappiamo avvenne, il pastore fu percosso, le pecore furono disperse, Pietro e gli altri si allontanarono da Cristo, cercarono di rifugiarsi dai romani, dagli scrivi, dai farisei. Ma questo attacco non poteva distruggere la loro fede. Rimasero alla fine fedeli a Cristo perché se la fede che ha in Cristo è una fede genuina non c'è attacco del nemico che la possa distruggere. Anzi, questa tentazione fu usata da Cristo per fare cosa? Per fortificare la fede di Pietro e Dio gli disse, tu quando sarai convertito fortifica i tuoi fratelli e Pietro infatti divenne una delle colonne portanti della Chiesa del primo secolo. In conclusione, stiamo combattendo una battaglia, siamo in guerra. È una guerra spirituale, è una guerra invisibile, ma sappi questo, non puoi rimanere neutro. Devi schierarti e se non sei schierato, se non hai deciso di schierarti questa mattina, sappi che sei già schierato. Sei schierato con il nemico, con il nemico che ti ha già arruolato nel suo esercito e vuole che porti avanti questa battaglia con lui fino alla fine. Ma non permettere al nemico di continuare ad arruolarti. Vai a Cristo, se questa mattina lo Spirito Santo ti ha convinto di peccato, non resistere alla sua opera. Se questa mattina il padre ti sta attirando al figlio, non scappare via, vai da Cristo. Lui ha detto io non ti cacerò via, io non ti cacerò fuori, ti accoglierò presso di me. Vi ho parlato all'inizio di questo uomo, Thomas Paine, Thomas Paine che era cresciuto in una famiglia cristiana ed era cresciuto in una famiglia dove ha ricevuto sicuramente un'istruzione cristiana e nella sua vita rigettò Cristo, rigettò la Bibbia, attaccò la Bibbia. Alcuni descrissero la sua morte, descrissero il suo letto di morte e la descrizione è che quest'uomo gridava e aveva paura e rinnegò il suo stesso scritto che lo aveva reso famoso, che lo aveva reso celebre, la luce della ragione e disse oh, che la luce della ragione non fosse mai stata pubblicata. Oh Cristo, oh Dio, aiutami, vedo, mi sento di essere davanti alle porte dell'inferno. Non sappiamo cosa è successo a Thomas Paine in quegli ultimi momenti, ma sicuramente le persone che l'hanno visto morire hanno visto un uomo che tremava davanti alle porte dell'inferno perché sapeva, come si descrive lui stesso, se c'è stato un agente di Satana sono stato io. Sapeva di essere stato un agente di Satana e sapeva di avere e di continuare a sedurre molte persone ancora oggi. Posso il Signore parlare ai nostri cuori, possa il Padre attirarvi al Figlio e la mia preghiera è che ognuno di voi possa andare a Cristo perché nell'apostasia non c'è la soluzione ai vostri problemi. Nell'apostasia non c'è, non avrete un peso leggero o minore da portare. L'apostasia aumenterà solo i vostri problemi. Andiamo a Cristo e Lui prenderà il nostro gioco e lo porterà su di sé perché ha promesso di farlo. Signore ti ringraziamo per questi quattro versetti di questa lettera che tu hai ispirato ma più di tutto ti ringraziamo per il tuo amore, ti ringraziamo perché ci hai chiamati, ti ringraziamo perché ci hai amati eternamente e ti ringraziamo perché ci custodisci, custodisci, proteggi la nostra fede, anche se vacilla, anche se a volte abbiamo domande, anche se a volte siamo sotto attacco e siamo quasi tentati di abbandonare tutto. Ma sappiamo che questo non è possibile perché tu non permetterai questo tipo di attacchi che distruggeranno la nostra fede. Al tempo stesso ti preghiamo per coloro che hai chiamato questa mattina, che stai chiamando, ti chiediamo che tu possa davvero chiamarli in un modo potente, efficace, che possano seguirti proprio come hanno fatto i tuoi discepoli e te lo chiediamo nel nome di Cristo Gesù. Amen.